Scatta la polemica sulle elezioni provinciali a Salerno. Dopo l'annuncio da parte di Alfieri della data per il rinnovo dei consiglieri che siederanno a Palazzo Sant'Agostino, il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone ha contestato la scelta del presidente. Incredibile che Alfieri convochi le elezioni con il vecchio sistema sotto Natale prevedendo i seggi di mercoledì, il suo commento. La legge consentirebbe tranquillamente di votare dopo la pausa natalizia considerando anche che è in discussione in Parlamento la legge per tornare al voto diretto. Alfieri e il PD hanno il terrore di elezioni vere dove sceglie il popolo perciò si affrettano. Non è tardata ad arrivare la replica di Alfieri che ha ribadito la sua contrarietà alla legge del Rio e lanciato l'affondo al suo antagonista. Non può parlare a me di elezioni vere ha detto lui che non le ha mai fatte. Abbiamo indetto i comizi come stanno facendo tante altre province in Italia. C'è una scadenza e la si rispetta. Se fossero stati più capaci avrebbero già approvato la modifica della legge in Parlamento. Iannone, che già nel suo intervento a Casella in Pittari aveva sottolineato la volontà e l'impegno del governo per tornare al voto dei cittadini anche sulle province, ne ha approfittato per punzecchiare sulla situazione relativa al Parco Nazionale del Cilento, dove dopo l'elezione del presidente Coccorullo ancora non si è completato l'organo amministrativo. Al Parco, ha detto il senatore, il 28 ottobre scadono i sei mesi entro i quali bisogna riunire l'assemblea dei sindaci per eleggere il comitato direttivo e ad oggi non c'è ancora la convocazione. Qui allora si può aspettare andando anche oltre il termine perché il PD ha avuto e ha difficoltà di sintesi. Sono semplicemente ridicoli.